...compia i 70 anni e per l'occasione rilancia il piano di integrazione dedicato ai giovani immigrati. Patrizia Angelini. Tornano sui banchi di scuola dopo 70 anni, motivo l'anniversario del villaggio dei ragazzi realizzato nel dopoguerra dalla sacerdote campano Don Salvatore D'Angelo. Ci sistemammo in una caserma diroccata nell'immediato dopoguerra. Fu il primo riparo, non solo materiale, per me ed alcuni fanciulli sopravvissuti ad una guerra crudele. Don Salvatore occupò dunque l'ex caserma Lino Bixio di Maddaloni, vicino Caserta, che trasformò prima in casa del fanciullo nel 1947, poi in villaggio. Al suo coraggio venne dedicato il film Solo Dio mi fermerà, girato nel 1957 con alcuni protagonisti del villaggio. Questa è una foto di 70 anni e io sto qua. Questa è una foto del 1947 e io sto qui. Qui sono io in una delle scene del film Solo Dio mi fermerà. Sì, il film Solo Dio mi fermerà rappresenta la storia vera della nascita della fondazione Villaggio dei Ragazzi. Lui è stato tra l'altro premiato dalla NIAF a Washington ed è stato tra l'altro amico di Kennedy. Ha anche ospitato nella fondazione Villaggio dei Ragazzi tre premi Nobel, la Montalcini, Rubbia e Zichichi. Questa è una foto della fondazione Villaggio dei Ragazzi, Rubbia e Zichichi.